Ieri è passata la sezione strategica del DUP che è il documento unico di programmazione dentro il 31 luglio da qualche anno, con questa amministrazione i bilanci vengono approvate nei tempi regolamentari, nei tempi di legge che sembrerebbe un qualcosa di normale ma così non è stato per tantissimo tempo e quindi anche ora il DUP con la sezione strategica abbiamo voluto fare in modo che prima ci sia sempre la sezione strategica laddove vengono delineate le strategie dell'amministrazione a un anno viene anche soprattutto verificato ciò che si è fatto nell'anno precedente ciò che c'era messo nel DUP precedente e quindi c'è una parte introduttiva che fa il sindaco per iscritto, abbiamo visto che cosa si è fatto rispetto al DUP dell'anno scorso molte opere sono state realizzate, altre sono già in corso di realizzazione e quale altre azioni intendiamo fare c'è tutta una base tra l'altro che abbiamo voluto mettere nel corso di questi anni ci sono tutta una serie di variabili di contesto nazionale, regionale e poi soprattutto quelle locale quest'anno ad esempio nel 2021 rispetto al 2020 perché si basa anche sul bilancio, ultimo bilancio chiuso c'è stata a livello demografico una inversione di tendenza abbiamo sempre un saldo a Ragusa naturale negativo cioè significa che sono più i decessi rispetto alle persone nate ma c'è stata una inversione di tendenza rispetto all'anno precedente sono aumentati i nati di quasi il 13% sono diminuiti i decessi, sarà un po' un post-covid c'è stato un aumento del tasso migratorio quasi 800-900 persone in più che si sono insediate a Ragusa c'è un aumento della popolazione estera, cioè dei migranti siamo oltre 6.800, quasi 6.900 persone ecco sono dei dati locali oltre questo, ripeto, tutto ciò che sono i dati invece strategici di amministrazione stessa i risultati che si sono avuti già con alcune azioni nel centro storico io voglio ricordare il centro commerciale e culturale che è pieno e attivo quest'anno è stato fortemente attivo ed è molto frequentato la ristrutturazione della ex biblioteca di via Matteotti la riqualificazione di piazza del popolo che è stata appunto completata e in corso di appalto ora anche la riqualificazione di via di piazza Monsignor Tidone poi c'è la riqualificazione dello scalomerci si sono fatte tutta una serie di azioni strutturali relativamente alla questione dell'idrico ad esempio con la conduttura nuova che si è fatta dall'ex zona industriale ASE al serbatoio di Brucet, il potabilizzatore di Contrada Camemi il denitrificatore a Marina di Ragusa poi abbiamo fatto un'azione molto importante sono stati già assegnati tutti i lavori riguardanti l'efficientamento energetico di sette istituti scolastici di Ragusa da un altro dato molto importante sono oltre 7 milioni di euro che si mettono sul mercato e quindi con delle azioni che vengono svolte poi c'è il restauro del castello di Donna Fugata del parco che è stato finanziato tutti i progetti del PNRR abbiamo partecipato a tutti i progetti del PNRR buona parte sono state tutte tra l'altro approvate poi un dato che voglio sottolineare molto importante noi non abbiamo più nessun dato deficitario a livello di bilancio abbiamo messo all'interno del DUP e non era mai stato fatto questo qua il dettaglio di ogni indicatore deficitario e per ogni indicatore deficitario si vede come il comune è lontano dalle soglie che sono previste dalla norma oltre le quali, superate le quali quelle soglie si ha un indicatore deficitario sono 8 gli indicatori deficitarie per la prima volta nella storia del comune tutte 8 gli indicatori deficitarie sono tutte positive non ce n'è nessuno e sono ripeto distanti dalla soglia stessa quindi penso che sia un risultato importante questo assieme ad altri se vuole continuare sul centro storico voglio ricordare anche i lavori del Teatro Concordia voglio ricordare anche tutta una serie di azioni che erano state ed erano delle incompiute a Ragusa e che pure ora hanno trovato una realizzazione a cominciare dall'impianto di Via delle Serene a Marina di Ragusa la riqualificazione del lungomare con la pista ciclabile e così via tutto li trovate nel DUP che è tra l'altro pubblicato sul portale del comune www.comune.ragusa.it www.comune.org